I mari mostrano stra bene, non vi preoccupate, e proprio riguardo a questo argomento ho acquistato un nuovo barattolino. Perché? Perché quello che ho io è veramente troppo gigante, troppo pesante, troppo alto e mi scoccio. Volevo qualcosa di più pratico, più maneggevole e soprattutto più piccolino. Ho trovato questo con il tappo rosa che mi piaceva abbastanza e secondo me starà benissimo al posto di questo che è veramente molto più gigante. Ovviamente togliamo tutte le carte e lo andiamo a sciacquare bene bene. Eccoli qui dopo averli lavati bene bene. Tra l'altro guardate i marimo di mamma come galleggiano, super fluffy, super sani. Ma sono lassù da giorni, vi giuro. Provo un po' di sana invidia, i miei sono tutti compatti, i suoi tutti super fluffy. Comunque andiamo a metterli nel barattolo così vediamo come stanno. Ok, eccoci qui con l'acqua fresca. Vediamo un po' come se la cavano. Ok. Ah, che carino, si è alzato. Chiudiamo il barattolo. Ed eccoli qui, dai, troppo carini, sinceramente. Molto molto meglio di quel tubone super lungo. Ma vediamo come stanno sulla mia mensola Crystal Zone. Ecco qua. Che dite? Tra l'altro farò altri cambiamenti molto presto qui sopra. Troppo contenta che stia a galla. Grazie. 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 Grazie.